Ben ritrovati su Rete7 ed un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vitis. La nuova settimana inizierà all'insegna del tempo discreto. L'abbiamo detto siamo in un corridoio instabile però non sempre abbiamo avuto e avremo tempo brutto a tratti appunto dei peggioramenti poi è intervenuto un miglioramento e anche la giornata di lunedì si aprirà all'insegna del bel tempo con tanto sole. Però nel pomeriggio aumenteranno le nuvole questa volta però più che addensamenti nuvolosi che un po' ci saranno sui rilievi alpini più settentrionali si tratterà più che altro di velature, nubi medio-alte che dai settori settentrionali alpini viaggeranno già nel corso del pomeriggio verso le prealpi e poi le pianure vedete in serata cielo nuvoloso ma per nuvole innocue quindi che non produrranno precipitazioni. Quindi nel complesso una bella giornata un bel lunedì 9 settembre. Temperature minime ancora piuttosto freschine, freddine temperature massime comprese tra i 21 e i 24, 25 gradi. Stanno aumentando un po' le temperature però ancora sono valori davvero piacevoli. È tutto amici di Rete7, buon inizio di settimana, ci riaggiorniamo presto.